musica musica Quanche al cricà di al svolaio sul flù e si fase il bagno «C'è fenomeno! Interessante!» al disè il professor di ornitologie chialando al punto il spettacolo «Une cisile di invier!» e al scriver su questo argomento una lunga lettera sul giornale locale dove le citare e gli repenge di peraulis che nessuno arrivava a capire «C'è fenomeno! Interessante!» «C'è fenomeno! Interessante!» al disè il cisilut che si era una buona rinfranchiata con queste prospettive al visitare tutti i monumenti della città e si fermava di lungo sulla picca d'alto d'eglese da part tutti l'acqua alleva i passati acciccicavano e si dicevano un cu l'altro «C'è foresta fin! Pardabong!» e questo lo faceva giù di un'ora «Quan che la lune e l'eva al torna in svù lì dal principe felice «Has tu qualche commission paleghit? O sei in partence!»